Allora, cari amici, stiamo andando in Sicilia, più o meno, siamo partiti alle 11, dovremmo arrivare attorno a mezzanotte l'una, più o meno diciamo a secondo di quanto uno si ferma, ci sono dai 13-14 ore di viaggio ovviamente, se non ci sono code e situazioni fuori dallo standard, che vuol dire fuori da alcuni cantieri scontati, ma se ce ne sono altri, poi vediamo. Siamo nel Romano, questa è la Roma-Napoli, un'autostrada quasi tutta dritta, salite e discese, 200 km circa, trafficosa ma scorrevole. Allora, siamo arrivati alla banniera di Salerno. Grandi amici marchigiani, quelli delle nostre parti, dell'alto Montefeltro, siamo a metà viaggio, non in termini di chilometri ma in termini proprio di tempo, anche perché le calabrie poi ti fanno andare più piano. Adesso abbiamo questo disperato viaggio che durerà circa 5 ore e mezzo, cantieri permettendo, e che ci porterà poi direttamente sul traghetto, che vi faremo ovviamente vedere, non si può perdere la traghettata anche se sarà in ottuna, grazie. Questa è la versione nuova della Salerno-Reggio-Calabria. Chiaramente ce la possiamo godere per pochi chilometri, diciamo, questi non mi ricordo saranno 50-60 km, molto belle anche le gallerie. Vi faremo vedere durante il viaggio le varie facce di quest'auto strana. Questo è l'ultimo pezzo di autostrada, mancheranno un paio di decine di chilometri. Primavera, tutto un cantiere, per fortuna, ma cosa di buono, anche nelle calabrie. Cioè, questo è tutto l'ultimo pezzo, tutto a gallerie nuove. Ecco, quest'è, che va a venire ancora un pezzo della vecchia autostrada, che per chilometri si faceva fino all'anno scorso. Bella, eh? Ecco, stiamo per fare il biglietto e poi speriamo che il traghetto sia lì. Una volta erano molto puntuali, un montava, l'altro tornava. Adesso si può anche aspettare un'ora e vediamo come va questa volta. C'è la fila. Ecco, guarda, guarda, con l'alto. Ciao, papi, papi, andiamo? Eh? Andiamo in Sicilia, papi? Cosa dici? Andiamo in Sicilia? Eh? Uh! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.